Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono anime bentornati in questo nuovo video, così sembro Frankenstein che mi tagliano la testa Sono in questo piccolo video e dico piccolo perché è Natale oggi quindi meglio non scassarvi perché sicuramente tra poco andrete a mangiare oppure avete già mangiato Anime e cazzo voi da me oggi mi devo strafogare, devo farmi venire il pancione da donna incinta E sono qua per raccontarvi un paio di due o tre cose e parto appunto dalla più importante cioè quella degli auguri Auguri ovviamente in generale perché io amo tanto il Natale, aspettate che io vi faccio vedere quanto io amo il Natale Cioè intanto non so se vedete come sono vestito di rosso, non so se vedete anche le luci che tramite la porta si vedono dell'albero Aspettate che ve lo porto Aspetta che non ci passa eh Vedete? Ditemi se non è un bell'albero di Natale, io amo il Natale Quindi vi faccio semplicemente degli auguri in generale, per me li portate a chi siete felici E vi volevo ringraziare per bene per i 200.000 iscritti che non ho avuto modo appunto di farlo per bene Quindi è un grazie enorme Vabbè dai mettiamoci in aria un attimino più natalizia Mamma mia quanto so brutto Anime on ice Tanto non so se avete visto ma sono in pigiama sì perché ovviamente anche voi sarete in vacanza stravaccati Probabilmente a scartare i regali appena svegli con i parenti che vi sbaciucchiano e via percorrendo tutti i prossimi giorni Comunque dicevo sì questo è il mio insomma un po' il mio regalo di Natale Ho inteso anche come magari aver mantenuto la promessa di fare un video al giorno Cioè come vedete adesso vi ho promesso che avrei iniziato a fare un video al giorno E sto cercando, sto mantenendo questa promessa Ho mantenuto anche la promessa di vederci a tutti gli eventi che ci sono stati in questi mesi Sono stato contentissimo di avervi visto tutti Insomma percorrendo gli eventi che ci sono stati l'anno scorso E gli eventi che ci sono stati quest'anno che sono esattamente gli stessi ma a percorrenza di dopo un anno Tutta la gente nuova che mi ha incontrato che insomma mi ha fatto i complimenti Non vedeva l'ora di vedermi mi ha reso veramente felicissimo Come un regalo per voi un impegno che ci metto costantemente per farvi felici Sì ma aspetta ma voi non mi avete fatto un regalo Io me ne vado eh Cioè non mi avete fatto un regalo Devo offendermi? Sono offeso? Ovviamente scherzo però se mi volete veramente fare un regalo Potete farlo lasciando un like a questo video In questo momento l'ultima cosa che vi voglio dire Lo dico solo a una piccola parte di voi che probabilmente è forma Fa la volpe Che nelle ultime settimane vi ho chiesto magari di arrivare a un tot di like in un video Se volevate nella settimana un altro video come quello Oppure se nello stesso giorno volevate un altro episodio E ovviamente ho detto se non arriviamo alla soglia dei like Non ve lo faccio questa settimana ma ve lo faccio la settimana dopo come faccio sempre Alcuni hanno iniziato a scrivere E tanto lo carichi lo stesso Allora boh senti tu Non dico niente perché a Natale siamo tutti più buoni Ascoltate bene Io se vi chiedo dei like perché voglio che appunto ci sia più interazione fra di noi Quindi se vi piace un video Se lo volete rivedere lasciate Arriviamo a quel tot di like Per esempio l'ultimo pack opening ha superato i 15.000 mi piace In settimana vi faccio un nuovo pack opening L'episodio di Minecraft non ha superato i 15.000 mi piace Questa settimana non vi farò due episodi Cioè capite che il filo è logico? Non per essere cattivo ma è giusto che con una mano si dà e con l'altra si prende Così è il detto Comunque a parte questo piccolo punto Io ho detto tutto Io veramente di nuovo auguri in generale a tutti Auguri alla vostra famiglia Fatemi sapere nei commenti cosa vi hanno regalato E quindi niente adesso io vi Che cazzo è sta roba? Le ragnatele assassine Vi lascio tornare al vostro pranzo Alle vostre nerdate sulla console o sul computer Quindi noi ci becchiamo domani con un nuovo video Commentate e lasciate un mi piace Stay angry Stay animals E stay babbo natale Oh no 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 Non l'ho fatta apposta